Ragazzoli miei, io sono Nevermind, benvenuti in questo nuovo video. Dopo circa un mese e mezzo, Elden Ring finalmente vede la luce di un nuovo aggiornamento. La patch 1.05 uscita quest'oggi del peso di quasi un gigabyte, punta a fixare numerosi problemi presenti all'interno del gioco, sia lato single player sia nel multigiocatore. Oltre a questo sono state aggiunte delle piccole migliorie ad alcuni aspetti del titolo. Prima di iniziare a parlarne in maniera più approfondita, vi ricordo sempre, nel caso il video vi fosse piaciuto, di lasciare un like a fine visione e di iscrivervi al canale per supportarlo e per altri contenuti di questa tipologia. Iniziamo adesso a parlare di quello che è stato aggiunto in quest'ultima patch. La patch 1.05 aggiunge la possibilità al passaggio di game, quindi per esempio dal new game al new game plus, di avere alcuni dei globici nerei disponibili dal mercante resti delle leggi dita alla tavola rotonda. Questa cosa precedentemente non succedeva e si doveva per forza di cose raccogliere di nuovo questi oggetti chiave. Ora, a quanto pare, sono trasferibili anche nelle partite successive, ovviamente giocando con lo stesso personaggio. Ho notato però che non sembrerebbe funzionare su new game plus già iniziati, pre-patch 1.05. Per esempio questo personaggio l'ho portato al new game prima della patch e questi globi adesso non li ho, quindi questa aggiunta è qualcosa che si attiva da adesso in poi. Gli ultimi due aggiornamenti sono semplicemente due piccole migliorie. La prima è l'aggiunta di un effetto sonoro quando appare nel mondo del giocatore un simbolo d'evocazione. La seconda è l'aggiunta di più enfasi da quel che dicono alla scelta di potenziamento di alcuni strumenti. Quello che ho potuto notare io è che quest'enfasi è semplicemente un pallino quando potete fare un potenziamento, in questo caso all'ampolla. In realtà ragazzoli miei, qui si concludono le aggiunte, quindi passiamo ai bug fix. Ovviamente c'è un'enorme lista che troverete linkata in descrizione anche sul gruppo Telegram e Discord. Vi faccio però un riassunto degli elementi più importanti. Il primo importante fix, devo dire finalmente, è quello riguardante l'MPC Alexander. Rimaneva impallato in alcune situazioni, rimaneva fermo e non andava avanti. In teoria con quest'ultimo aggiornamento hanno sistemato questa cosa, quindi ci dovrebbe essere una corretta progressione della sua questline. È stato corretto anche il bug riguardante la balestra a puleggia, quella che casualmente vi ho portato qui sul canale nell'altro video. Questa balestra si equipaggiata nella mano sinistra prendeva i buff dell'arma nella mano destra, quindi se applicavate per esempio seppuco ad una spada nella mano destra, la balestra a puleggia nella mano sinistra avrebbe comunque applicato sanguinamento anche utilizzando dei dardi normali, quindi prendendo il seppuco dell'altra arma. Questa cosa è stata corretta. È stato anche fixato l'errato funzionamento di alcune spell usate in rapida successione, dove alcune animazioni switchando tra una magia e l'altra venivano velocizzate e il lancio effettivo della spell era accorciato di molto rispetto al normale. Queste tecniche di solito si utilizzavano in combo all'incantesimo proiezione bestiale, sicuramente vi sarà capitato in qualche invasione o scontro pvp. Ovviamente il risultato era che utilizzando questo piccolo escamotage si lanciavano delle spell molto potenti con una velocità assurda e innaturale rispetto al gioco, quindi soprattutto negli scontri 1v1 la gente delle volte ne abusava. Di base quindi tutte queste animazioni che andavano in combo e funzionavano in maniera un pochino strana sono state corrette. Per quanto mi riguarda ragazzuoli, poi fatemi sapere la vostra qui in basso nei commenti, di questo specifico fix ne sono estremamente contento. Oltre a questo a quanto pare è stato fixato anche un bug che preveniva il critical hit da dietro, quindi praticamente il backstab. Il backstab all'interno delle sessioni multigiocatore, che sia pvp o invasione, si utilizzava veramente pochissimo perché era molto difficile da portare a segno. Teoricamente con questo fix forse l'hanno sistemato, dovremo vedere. La patch 1.05 va a sistemare tantissime altre cose, come per esempio l'impossibilità di riposare ad alcune fonti, o l'incorretto funzionamento di alcune ceneri di guerra, ma quelle che vi ho citato finora sono diciamo quelle più succose ed importanti. Per la lista completa e più esaustiva dei cambiamenti vi invito a guardare la descrizione di questo video, il gruppo Telegram e il gruppo Discord. Per questo oggi ragazzuoli il video termina qui, vi ringrazio infinitamente per l'attenzione, fatemi sapere qui in basso che cosa ne pensate di questa patch 1.05, se comunque ha rispecchiato le vostre aspettative, se ha fissato delle cose che comunque vi davano noia all'interno del gioco fino a questo momento, o se vorreste vedere dei cambiamenti su altri aspetti all'interno del gioco. Io ero Nevermind e vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video. Ciao ciao! 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 Ciao!